Da un salone della difesa in programma fuori Parigi dal 17 al 21 giugno, il candidato premier del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha fissato le priorità della Francia in tema di difesa. A 11 giorni dalle elezioni anticipate in Francia, entrano in vivo la campagna elettorale. Tra le critiche del premio Rattal, anche quella del programma del Rassemblement National, definito approssimativo. Grazie.